Nel corso dei nostri servizi ci siamo resi conto di una cosa. Come mai ogni volta che intervistiamo una copia araba, lui parla in italiano e lei invece no? Ma lei non capisce. Che cosa impedisce alle donne arabe di imparare la lingua del paese in cui vivono da anni? E' quello che cercheremo di scoprire. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perché comunque dipendere sempre da qualcuno per fare la spesa, per andare da qualsiasi parte è molto faticoso insomma. Quindi bisogna abbattere le barriere e anche la pigrizia. Certo. Più che altro è una questione sociale, magari queste donne spesso passano gran parte del proprio tempo in casa, ad accudire i figli o tra di loro e questo le limita fortemente. Non sono moltissime quelle che lavorano, in genere chi lavora impara la lingua. Questo problema, possiamo anche chiamarlo così, era diffuso anche per gli emigranti italiani e le famiglie italiane che andavano in altri paesi. Per confutare i nostri sospetti abbiamo interpellato anche gli uomini e sentite che cosa ci hanno detto. Perché gli uomini sì e le donne no? No, perché gli uomini escono, escono, lavorano, perché la nostra donna non lavora. La donna birra solo la casa. Andiamo bene! Quindi la donna deve fare la casa lì e basta? Sì, sì. Quando vuoi arrivare in Italia? 13 anni. 13 anni o non si è ancora in casa? Non si è ancora in casa con il bambino. No, esce lo stesso. Esce accompagnata. E si è accompagnata dal marito che parla egiziano e di conseguenza non impara mai la lingua. Esatto. E solo le lingue arabe, non altre. E per fare la casa lingua non servono altre lingue, dici? Se vuole imparare si impara, non c'è un problema. Come la voglia. Manca la voglia, dici? Sì. Ma ci sono degli uomini che non li lasciano andare a scuola? Sì, alcuna gelosia. Cioè, come se il marito si riuscì al madrassa, si riuscì a scuola? Sì. Ma qui, qui, non c'è un scherzo. Non c'è un scherzo, non c'è un scherzo, non c'è un scherzo. Devi lasciarla studiare. Amici italiani, ma soprattutto amiche straniere. L'integrazione passa dalla lingua, ma poi raggiunge il cuore. Non abbiate paura di parlare. Dara già è tutto, a voi studio.